Quanto durano i vantaggi di Naturreal? I vantaggi di Naturreal, cioè l'effetto di ingrandimento che abbiamo ottenuto con Naturreal, è stabile dopo circa sei mesi. In realtà prima noi sappiamo che quello che arriverà a tre, quattro mesi in definitiva è il risultato finale, perché uscirà dalla sala operatoria con un volume maggiore e purtroppo questo si riassorbirà in un modo variabile. Ma quello che c'è a sei mesi sarà definitivo e noi l'abbiamo dimostrato scientificamente, effettuando risonanze magnetiche tridimensionali prima dell'intervento, dopo sei mesi e a distanza di un anno. Cosa succede? Questa paziente mi chiede nella vita. Succede quello che avviene nella natura, quindi se la paziente ingrasserà, il risultato aumenterà, se demagrirà, si perderà un po' di risultato. Ma l'attecchimento è un attecchimento che negli anni non è destinato a riassorbirsi in modo diverso rispetto a tutto l'intero compartimento adiposo del corpo. Se ingrassa addirittura aumenterà. Grazie. Grazie.